Cercavano la puzza, hanno trovato l'inferno. La terra ribolle, un fumo denso e bianco si sprigiona dal sottosuolo, le fiamme, che neanche fiumi d'acqua riescono a domare. No, non è un girone dell'inferno dantesco, ma una delle tantissime cave dismesse di cui il territorio tranese è costellato. E l'incubo dei racconti di Salvatore Anacondia si trasforma da leggenda in realtà. Negli anni Ottanta il boss del Norbarese, appena diventato collaboratore di giustizia, raccontò che nelle cave tranesi veniva occultato ogni genere di rifiuto, dagli speciali ai nocivi, dai tossici ai pericolosi. Se ne fece un gran parlare all'epoca. Poi tutto è tornato nel silenzio, come si trattasse appunto di una leggenda metropolitana. Qualche indagine per la verità fu anche compiuta, ma con gli scarsi mezzi tecnici dell'epoca vennero rinvenuti solo pochi rifiuti nocivi, ma niente di eclatante. Ma evidentemente la pratica è continuata nel tempo e solo la puzza nausea bonda di questi giorni che ha reso irrespirabile l'aria di Trani ha scatenato una vera e propria caccia all'origine dell'odore che ha portato alla scoperta di questa cava abbandonata nelle campagne sulla direttrice della provinciale Biceglia Andria, a poca centinaia di metri in linea d'aria dal casello autostradale. Insomma, Trani come la terra dei fuochi? È presto per dirlo. Al momento infatti non è possibile capire di che tipo di rifiuti tombati si tratti. Le fiamme impediscono alle forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri e polizia locale e ai vigili del fuoco, di accertare la natura dei rifiuti. Prima dovranno essere completate le operazioni di spegnimento attraverso l'interramento in modo da fare esaurire l'ossigeno. Solo dopo, con estrema cautela, si provvederà ad effettuare dei saggi per gli opportuni approfondimenti. Ma bisogna far presto. È necessario capire se si tratti di un caso isolato o se esista un disegno di una qualche organizzazione criminale. Ed in caso di risposta positiva, bisogna accertare che tipo di devastazione abbia provocato alle colture, alle falde, al mare. Non è più tempo di nascondere la testa sotto la terra, anche perché il problema è proprio lì.